E benvenuti ad una nuova dose di vitamina EDC, il nostro integratore di felicità. Come ogni sabato pomeriggio eccoci qui a svuotare le tasche e a parlare dell'EDC della settimana. Oggi però con una novità perché ho dovuto aiutare un po' nella scelta e allestire l'EDC della maestra tattica. Ebbene sì, mia sorella è un'insegnante e avrete notato anche voi che le insegnanti hanno bene la loro borsa e in più sempre qualcosa. Hanno la borsa più qualcosa. Quel qualcosa in più oggi è la Osprey Narcan che ho fatto arrivare per mia sorella, mi ha aiutato lei a testarla e pare che funzioni un sacco bene. Siccome spesso a chiamarmi, a scrivermi sono le vostre mogli, le vostre compagne per aiutarle un po' nella scelta del regalino perfetto, ho pensato che era una buona occasione per restituire il favore. Perché sì ragazzi questa è una borsa tutto sommato femminile, poi fate voi. È una classica borsa a sacchetto in realtà, sembra un sacchetto della spesa, però è perfetta per la vita da insegnante. Per il plus di cose che devono portare le insegnanti per le lezioni, è chiaro. Chiaramente ha la sua tracolla super regolabile, con fibbie in acciaio e si può portare, è ovvio, a spalla, a tracolla. Quando è un po' più vuota si ripiega e si richiude con il suo magnete, altrimenti la si prende così, insomma è anche molto bella, ma soprattutto adatta al trasporto di documenti, laptop, quaderni, compiti in classe, verifiche cattivissime, non so cosa fanno le insegnanti. Realizzata in poliestere riciclato al 100% è certificato Blue Sign. Poi ve lo spiego un giorno che significa, ma è un consorzio che certifica la provenienza delle materie plastiche riciclate. Comunque ospra i ragazzi, siamo abituati solo al meglio. Sulla parte frontale c'è una tasca chiusa con la zip. Se magari bisogna utilizzarla nei mezzi pubblici, dove vogliamo tenere qualcosa un po' più protetto, la tasca frontale è chiusa quindi con una zip. Mentre quella sul retro è quella che chiamano, mi pare, easy drop o comunque una tasca aperta per buttare qualcosa come un'agenda che magari siamo costretti più volte al giorno a prendere per scrivere appunti, cose varie, anche eventualmente il cellulare o un tablet. Tutto dipende dalla vita che facciamo. Chiaramente la parte più importante è lo scompartimento principale, o meglio più importante è la parte dove vanno tutte le scartoffie. Si chiude con una magnetica, è tutta magnetica questa, guardate si chiude così, si apre, si chiude, si apre, si chiude, è fantastica. Allora c'è una tasca, un alloggiamento specifico per una borraccia, una bottiglia d'acqua da mezzo litro, da 75. Non ci va forse tanto, beh ci va pure, è una bottiglia un po' più grande, fino a un litro e mezzo, ma chi deve portarsi un litro e mezzo. Comunque una borraccia di questo tipo, di quelle giornaliere, anche da un litro ci va benissimo. Dopodiché astuccio per la cancelleria, libro di scienze che ci piace sempre e eventualmente dei block notes, qualcosa per scrivere. E' chiaro che la borsa è a struttura libera, proprio a sacchetto della spesa, non so se hanno un nome queste borse, lasciatemelo nei commenti che sono incapace, ma sono delle borse super comode per tenere dentro documenti. E vi faccio vedere il discorso di prima, ma se la borsa è un po' più vuota di come la tenevo io, si blocca in questo modo con il magnete. L'Arcane di Osprey è disponibile in nero su Backpacko.it per tutte le maestre tattiche ed è approvata da mia sorella, quindi è resistentissima, fidatevi. E io sono passato al borsello più grande, al Pentagon UCB. Per quale motivo ve lo spiego subito, prima però fatevi mostrare questo borsello apprezzatissimo, tra l'altro di Pentagon, che funziona anche da monospalla. Basta tirare via, togliamo via immediatamente il mio ASP Key Defender, basta tirare via qui tutto l'armamentario in dotazione e vi montate la tracolla per portarlo come monospalla. Siccome non è il mio caso, lascio tutto dentro e richiudo col bottoncino. Se volete vederlo montato e in uso, date un'occhiata alla recensione completa su Backpacko.it. Allora, è un borsello, è una borsetta, è un pouch con manico, abbastanza capiente e anche abbastanza tattica. Mi piace molto perché è resistente, grande, ben organizzata e mi permette di portare qualche cosetta in più che poi mi serve durante la giornata. Anzi, per un periodo ho montato anche una tasca qui per la borraccia e tenevo anche la borraccia di lato, perché no? È disponibile in diverse colorazioni, le state vedendo a schermo, ma andiamo subito alla ciccia. Anzi no, perché ecco che abbiamo una bella superficie per le patch e io ce le ho sistemate un paio. Una è la patch di Crown, giusto la settimana scorsa avevamo con noi ospite Kitrin Walken e dell'associazione dei Ranger anti-bracconaggio. E la sistemiamo per bene qui. E l'altra è questa patchettina di 511 col velcro, che è molto visibile durante la notte perché è in grado di immagazzinare la luce e è fluorescente. Perché ho montato questa qui sopra? Ma perché quando vado magari a fare una passeggiata, beh, questa mi permette, magari la tengo in spalla, di essere un tantino più visibile durante le mie camminate. Allora, cosa abbiamo sistemato? Ah sì, una molly clip qui sul pannello davanti, ci sto andando matto per le molly clip. Ce ne sono molte disponibili, non tutte le conoscono, guardate a schermo, ma sono perfette per abbellire il nostro equipaggiamento. Taschina davanti, fiammiferi di Petromax recuperati da mio fratello Marco di Grill Pacco e torcetta di Nightcore, stavolta davvero piccolina perché sto provando un po' di torcette un po' più leggere, un po' più piccole, delle classiche torce palmari che porto sempre con me, tipo la EDC27. Sto cercando di alleggerirmi un po' in vista dell'estate. Questa è la Tip SE, davvero comoda, si accende con il suo pulsantino, ha tutta una serie di modalità e anche un ottimo turbo che potrebbe servire in alcune situazioni. Ricaricabile con USB-C da questa parte e se volete usarla come portachiavi, rimuovete la clip e ve la tenete in questo modo. E vediamo qui cosa ho sistemato. Allora, questa tasca è molto organizzabile e vedo i residui di un'operazione a cuore aperto sulla bambola della mia nipotina. Questa è servita... sono oggettini che sono serviti per riparare i giocattoli. Vi capita pure a voi? Eh, a voglia. Gel igienizzante, burro cacao che ho cominciato a screpolarmi la boccuccia e anche il detergente per gli occhiali per i Wyricks. Non uscite mai senza. Comodissimo questo. Proprio perché è fatto apposta. Niente acqua, niente calcare, niente sapone per i piatti che poi rovina le lenti. Due, tre spruzzate di questo, una bella pulita. E gli occhiali sono come nuovi. E in più, in più fa uno strato protettivo contro l'appannamento. Poi, cosa abbiamo più? Ah, eccolo qui. Lama della settimana e DC, bella grossa. Acta non verba, Z100. Sì, mi piacciono un sacco questi, acta non verba. Sono solidi. E ogni volta che qualcuno di voi ne prende uno per provarlo, poi mi riscrive facendomi sapere che si trova benissimo. Questa è un'azienda europea che fa coltelli, li fa bene. Bei disegni, bei colori. Già lo Z100 è disponibile in un sacco di colori. Una clip per il porto occulto in tasca, se proprio volete. Ma io lo ritengo proprio un ottimo coltello. Ora, questo è in Sleipner, ma fanno coltelli in Magnacat e in Helmax. Date un'occhiata su Backpack.it. Grande azienda, se non avete mai provato un coltello di acta non verba, correte a prenderlo e poi mi ringrazierete. Non ha mai deluso nessuno. Poi un altro oggettino che mi fa comodo è il segnalatore GlowTube di Nextorch. Proprio per il discorso passeggiate lo tengo legato in questo modo. Quando mi serve lo tiro fuori così. Se sono proprio ispirato lo metto anche dentro il sistema molli. Ma di solito lo lascio penzolare. e lo accendo in questo modo. Oppure se ho bisogno con un lampeggio. Questo funziona, fate voi, ecco, ve lo sistemate voi a diverse modalità. E va con una batteria, non è quello ricaricabile. Io l'ho messa a litio per averla più leggera. È una batteria tripla, non c'è da fare tanta poesia. Si avvita qui dentro e si avvitate un po' di più. Parte la luce. Questo mi è comodo se voglio essere ancora più visibile durante... Non tanto la notte, che poi uno non è che va a camminare di notte. Però fa buio in un attimo. E ancora oggi mi trovo a camminare per strade pericolose. Cercando di tornare a casa ogni tanto. GlowTube. Disponibile in diversi colori e diversi modelli. Sempre su Backpack.it E no, non mi sono dimenticato, so che l'avete intravista. Ed eccola qui. La Boker Plus Tool Pen. Abbiamo già visto diverse penne con il sistema Bolt Action. Però qui, invece di uscire una cartuccia in grado di scrivere, esce fuori un bellissimo inserto Torx. Anzi, un doppio inserto Torx. La penna o il cacciavite, dovremmo dire, realizzato tutto in alluminio, il corpo, con questo pulsante anodizzato blu. E la parte finale, questa col foro, è girevole. Quindi se ce l'ho in mano, vedete come riesco tranquillamente a girare. È proprio ergonomica questa parte qui. Per quale motivo portare una penna, un cacciavite con le viti Torx? Beh, ma è chiaro per giocare con i nostri coltelli. Per fare un po' di manutenzione o per diversi altri motivi. Ma cosa ancora più importante, questa penna cacciavite è compatibile con tutti i tipi di inserto. Quindi con inserti da un quarto, si intende. Quindi con un set da inserti di un quarto, più questa, avete non un'impugnatura per girare le viti, che quella ve la offrono tutti, ma un sistema molto comodo per avvitare e svitare sul serio. Se poi vi serve qualche altra Torx o un'impronta che vi fa particolarmente comodo, la potete nascondere qui. In dotazione vi arriva Torx, vado a memoria, poi tutto su Backpack.it, la T6, la T8, la T9 e la T10, le più comuni sui coltelli. Quindi, come vi dicevo, se vi serve qualche altro inserto, va benissimo un inserto qualsiasi, lo mettete su. Quando non vi serve più, ritirate le armi e non si vede più niente. Mi piace davvero molto questa penna, realizzata in alluminio tostissimo da Boker, di cui ormai abbiamo a catalogo diverse cosine irresistibili. Brava Boker, complimenti per questo progetto. E adesso veniamo al motivo per cui ho scelto la UCB di Pentagon, il motivo per cui questa dimensione mi torna particolarmente comoda. E qui abbiamo qualcosa per festeggiare, poi vi racconto anche cosa. Mi piace molto avere dei sigari in tubo, proprio perché li compri così, li sistemi da una parte, quando vuoi tiri fuori i fumi, senza preoccuparti di dover controllare tu l'umidità. Poi un giorno ne parliamo di fumo lento e di sigari, se vi va. Pennarellone di Cold Steel, il Pocket Shark, ma in realtà mi serviva solo un pennarello per fare della roba, però ho preso questo che è un sacco più figo. Pennarellone tipo Sharpie, per capirci, ma anche oggetto da difesa. Non l'ho portato per quello scopo, e poi non si sa mai uno cosa si trova a fare. Classica serviettina detergente, ci mancherebbe. Penne right in the rain e matita right in the rain. Allora, la penna è questa compatta, piccolina, eccola qui, comodissima, funzionale, super pratica, arancione. E la matita con la mina da 1,3 mm e la gomma, sempre affidabile, sempre a disposizione. Perché porto questi oggetti? Ma dai, fatemi fare questa parte che si è visto, credo. Perché mi sono portato tutta la settimana un quadernone right in the rain. Quadernone, questo ha il formato, direi, A5, più o meno, per noi europei. Ha, in realtà, il formato americano che non mi ricordo, ma le dimensioni le trovate su un backpacco. Quaderno sempre resistente all'acqua, ha il suo bell'indice all'inizio. Non è il mio questo, perché nel mio ci sono degli appunti segreti che non posso mostrarvi ancora. Però volevo farvi vedere che il primo foglio è un indice. E questo è molto comodo, perché potete numerare le pagine, ecco qui, e segnarvi la tabella dei contenuti per compilare il vostro quaderno. Avete davvero una superficie ampia per ragionare. E poi vi racconto, dai, vi racconto su cosa sto ragionando, ma si capirà mano a mano durante questo 2024. E vi piacerà, forse anche più del quaderno arancione, con la penna arancione e la matita arancione. Continuando il nostro giro, ragazzi, qui ci sta davvero di tutto. E sì, ho ceduto custodia per gli occhiali dentro il borsello. Quali occhiali ho portato questa settimana? Ma chiaramente gli Ovation. Ho deciso di tenerne un paio per il trekking e un altro paio per le uscite. Perché quelli da trekking finivano per essere sempre un po' maltrattati e poi dovevo ritrovarli ogni volta che dovevo fare un trekking. Insomma, ho deciso di raddoppiare la dotazione. E questi sono quelli eleganti, ok? Fantastici, come tutti gli occhiali di Wallex. Flex protettivi, come devono essere degli occhiali balistici. E portafogli di Tasmanian Tiger di nuovo. Questo è, come quello che abbiamo visto la settimana scorsa, è davvero identico nella struttura, sempre in cordura, 700 denari, sempre con la sua flap, con il suo flap trasparente per un cartellino identificativo, sempre con la saccocetta velcro a soffietto per gli spicci, per la tombolata o per le nipotine fameliche, sempre pieno di scomparti. Insomma, cosa cambia? Non ha la protezione RFID contro le scansioni dei dati. Se questo aspetto della protezione dei dati a voi non interessa, beh, trovate lo stesso portafogli che abbiamo visto la settimana scorsa, Tasmanian Tiger 1000 Wallet, in versione sprotetta. In versione sprotetta che ovviamente costa molto meno. Quindi dipende un po' da quello che vi interessa. Abbiamo sborsellato lo sborsellabile. Mi sono portato questi oggetti per tutta la settimana e sono contento di averlo fatto. A parte il burro cacao, che lo porto sempre con me, dovrei metterlo, ma mi dà fastidio, mi dà una sensazione di caldo, di fastidio sulle labbra e alla fine lo uso meno di quanto dovrei. Ah, dimenticavo l'orologio Casio G-Shock GM110MF. Ok, un orologio fantastico, bellissimo così, ma tutte le caratteristiche le trovate su Backpack.it che adesso non ho più tempo di raccontarvelo. Davvero bello comunque. E voi cosa avete portato durante la settimana? Fatemelo sapere, scrivetemelo qui sotto qual è stato il vostro coltello preferito durante questa settimana o la vostra torcia o un altro oggetto EDC che magari io non porto mai e per qualcuno di voi è fondamentale. Aspetto i vostri commenti qui sotto. Vi ringrazio per essere stati con me. Questa puntata di Vitamina EDC finisce qui. Ma gli appuntamenti continuano. È già domenica alle 20, l'ultima puntata dello Snake 2023 e poi martedì una puntata speciale del BackpackoCast dedicato al Papa Prepper. Se non l'hai già fatto, iscriviti al canale, schiaccia la campanella, così non perderai neanche uno dei prossimi video. Grazie ancora per essere stati con me e passate un ottimo fine settimana ragazzi. Ci si vede alla prossima.